Bentornati alla nostra pillola di diritto. Quante volte sentiamo parlare nel processo penale di riti alternativi, in particolare il patteggiamento, il giudizio direttissimo eccetera. In effetti come alternative al cosiddetto dibattimento, cioè al giudizio in forma piena davanti al Tribunale, alla Corte d'Assise, il nostro codice di procedura penale ha previsto delle soluzioni alternative. Ne citiamo tre velocissime perché sono accomunate dal fatto che vengono in essere quando si valuta che ci sia già una piena colpevolezza o comunque dei gravissimi indizi tali da rendere sconsigliabile la celebrazione piena con il dibattimento. Innanzitutto il giudizio direttissimo che si ha quando si celebra contestualmente la convalida dell'arresto e appunto il giudizio vero e proprio, il giudizio immediato quando entro certi termini dalla notizia di reato comunque c'è o la confessione o comunque la piena prova della colpevolezza dell'imputato e il decreto penale di condanna, cioè laddove non ci sia bisogno di una particolare istruttoria, salvo che l'imputato non si opponga, viene già emanata una sentenza di condanna, un decreto di condanna. Però ci concentriamo particolarmente su quelli che sono a scelta, i riti alternativi cosiddetti premiali a scelta dell'imputato, si tratta del patteggiamento e del giudizio abbreviato. Entrambi, proprio perché riguardano una scelta dell'imputato molto personale, possono essere adottati solo se l'imputato personalmente oppure a mezzo di un procuratore speciale che normalmente è l'avvocato, lo richiede espressamente. Il patteggiamento consiste in un vero e proprio accordo che l'imputato fa con il pubblico ministero e che propone al giudice l'applicazione di una pena. Questa pena non può superare 5 anni di reclusione e non può riguardare reati particolarmente gravi come quelli in ambito mafioso o di terrorismo. In cambio di questa scelta che quindi evita di andare avanti nel processo o nel dibattimento, l'imputato ottiene uno sconto di pena di un terzo. È anche vero che non potrà impugnare la sentenza di condanna se non per casi molto particolari in Cassazione. Vediamo velocemente anche il giudizio abbreviato. Il giudizio abbreviato invece è una scelta che l'imputato fa quando chiede di essere giudicato allo stato degli atti, cioè senza andare a pieno dibattimento, senza sentire testimoni, senza assumere altre prove. Essenzialmente il giudice lo giudica sulla base di ciò che è contenuto nel fascicolo d'indagine. Si può applicare per tutti i reati, tranne quelli puniti con la pena dell'ergastolo, anche qui in cambio di questa scelta che consente di evitare le lungaggini di un dibattimento, l'imputato in caso di condanna ottiene uno sconto di pena di un terzo. Diversamente dal patteggiamento, in questo caso c'è la possibilità di impugnare in corte d'appello e poi eventualmente anche nei successivi gradi in caso di sentenza di condanna. Grazie per l'attenzione al prossimo appuntamento. Grazie per la visione! Grazie per la visione!